Dopo la richiesta fatta all'unanimità dal Consiglio regionale alla Giunta regionale per uno stop ai cantieri della variante di Valico, i cittadini di Ripoli tirano un sospiro di sollievo. Anche oggi la nostra telecamera è salita sul paesino minacciato da una frana. La Giunta di Bologna ha deciso di aumentare del 4% la TAR sulla tassa sui rifiuti. L'obiettivo è quello di migliorare la raccolta differenziata, ha spiegato la vice sindaco Silvia Giannini, ma inevitabili scoppiano le polemiche. Mancano poche ore alla pubblicazione del contropiano dell'Associazione Commercianti per la pedonalizzazione del centro, un progetto più soft che si oppone alla pedonalizzazione più radicale proposta dal Comune e dall'assessore Colombo. E' giallo su due testamenti falsi, una vicenda che nasce da un esposto della Curia. La Guardia di Finanza ha sequestrato beni per oltre 14 milioni di euro, indagato un ginecologo in pensione. Bus fermi domani a Bologna dalle 10 alle 14. Gli autisti di TPER, l'ex ATC, incroceranno le braccia in adesione allo sciopero nazionale del settore. Del pomeriggio dalle 14 alle 18 sarà la volta del trasporto ferroviario regionale. Buonasera e benvenuti a ETG. Dunque la popolazione di Ripoli nel Comune di San Benedetto Val di Sambro, le cui abitazioni sono minacciate da un movimento franoso, tira un sospiro di sollievo. Mentre sono in corso accertamenti per verificare se la causa del movimento stia nei lavori per lo scavo di una galleria della variante di Valico che passa proprio sotto l'abitato, ieri il Consiglio regionale ha chiesto alla giunta di Via Aldomoro di bloccare i cantieri. Questo ridà speranza agli abitanti del borgo che anche oggi siamo andati a trovare. L'intero materiale raccolto sarà trasmesso nel corso di uno speciale Dedalus, in onda alle 20.45 sulla nostra rete, ma intanto vediamo questo servizio di Francesco Spada. Con il parroco di Ripoli, Don Marco Baroncini, venerdì la diretta televisiva di ETV da Edalus. Ieri questa decisione, questo voto del Consiglio regionale, che ricordiamo è l'Assemblea legislativa, è quella eletta sostanzialmente dal popolo, che chiede la sospensione dei lavori. Un sospiro di sollievo? Tanta rabbia perché potevano farlo prima? Un sospiro di sollievo? L'importante è che le cose arrivino. Peraltro, devo dire, avendo denunciato un certo pressapochismo generale, questo invece mi dà soddisfazione perché ho letto la risoluzione e, devo dire, scritta da persone che in qualche modo sanno di cosa si sta parlando. E questo è, a mio parere, già una bella notizia, che chiaramente viene rallegrata dalla decisione dell'Assemblea legislativa, appunto di approvare la risoluzione e di richiedere il blocco dei lavori per verificare quello che realmente sta accadendo. Chiaramente è una bella notizia. È un pensiero per il Sindaco a questo punto di questo Comune che fino a ieri continuava a sostenere, insomma, che non aveva indicazioni, non aveva elementi per fermare. È chiaro che adesso un voto di questo genere del Consiglio regionale in qualche modo sul piano istituzionale lo mette un po' in difficoltà. Questo non è un argomento che mi solletica e che mi affascina. C'è un dato importante, cioè che è stato un riconoscimento della situazione grave, come da noi denunciata. Chi ha il compito di portare avanti questa causa se ne faccia carico. Sul resto, devo dire, non mi tocca. Il voto in regione è una piccola vittoria, Gioometra Dici? Ma è finalmente un riconoscimento da parte di un ente dello Stato che ha la sua valenza in quanto eletto da tutti i cittadini che finalmente si sono resi conto del disastro ambientale che stanno perpetrando da anni, nella piena indifferenza di tutte le autorità. tant'è che l'ingegner Tozzi, che è direttore generale di autostrade per le grandi infrastrutture, si permette di dire che noi possiamo andare avanti solo ed esclusivamente per l'appoggio delle autorità. In questo punto un'autorità importante come l'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna ha detto stop. Ma io credo che questa qua sia uno stop che sia dovuto, un atto dovuto anche per rispetto della magistratura. La magistratura ha aperto un'inchiesta per disastro ambientale, non per pericolo di vite. Disastro ambientale significa che questo Paese, purtroppo tutto il versante già toccato dagli scavi delle gallerie, è diventato una frana attiva. Cambiamo argomento, la Giunta Comunale di Bologna ha deciso di aumentare del 4% la Tarsu, la tassa sui rifiuti. L'obiettivo è quello di migliorare la raccolta, ha spiegato la Vice Sindaco con Delega al bilancio Silvia Giannini, ma inevitabili scoppiano le polemiche. Allora vediamo il servizio di Giuseppe Piloni. La Tarsu sale del 4% nel 2012 a Bologna. L'annuncio è arrivato nel corso di un vertice tra Comune e sindacati. Aumenta dunque anche la tassa sui rifiuti. La percentuale di raccolta differenziata è molto bassa in questa città, soprattutto in centro. Dobbiamo invertire la tendenza, spiega la Vice Sindaco con Delega al bilancio Silvia Giannini. Ora, aggiunge, dobbiamo definire impegni precisi per ERA e verifiche puntuali sul lavoro della Multi Utility. La prossima settimana l'aumento dovrebbe avere il via libera in giunta. Intanto non si fanno attendere le prime reazioni. Le prime voci contrarie sono quelle dei sindacati. Siamo sconcertati, ma a Palazzo da Cursi l'aumento della Tarsu del 4%, chi lo ha deciso, ha atto ERA oppure la giunta Merola? A puntare i piedi è Luciano Roncarelli della segreteria della UIL di Bologna. Il rincaro del 4%, oltretutto proprio quando le famiglie fanno una fatica enorme a far quadrare bilanci, è ingiustificabile. Intanto perché va a sommarsi al più 5% del bilancio 2011, che a sua volta confluisce in quelli precedenti, toccando così quota più 26% circa, dal 2004 ad oggi, segnala Roncarelli. Non si fanno attendere nemmeno le reazioni del mondo della cooperazione. Ci aspettavamo una crescita della metà di quella cifra. Sicuramente peserà sui bilanci, questo è il commento di Maurizio Faccin, direttore dei servizi di rete di Coppa Adriatica. E anche l'opposizione in consiglio comunale si fa sentire. E' vergognosa aumentare la Tarsu, visto che il risultato del servizio di ERA è spesso anche in centro, quello di piccole discariche a cielo aperto, dice la consigliera comunale della Lega Nord, Lucia Borgonzoni. L'aumento non fa che sottolineare gli intenti della giunta comunale di Bologna, tassare tutto ciò che è possibile, nascondendosi dietro proclami, come quelli del miglioramento dei servizi, conclude la Borgonzoni. Da domani i piani per la pedonalizzazione del centro storico di Bologna saranno due. A quella più radicale del Comune e dell'assessore di Colombo, la soluzione appunto del Comune, si aggiungerà a quella più soft dell'associazione commercianti Ascom. Mancano poche ore all'illustrazione ufficiale del piano di Ascom, confcommercio per la pedonalizzazione del centro. È già stato definito giustamente un contropiano, che si oppone cioè al progetto del Comune, partorito e presentato dall'assessore al traffico Andrea Colombo. La sua è ancora ufficialmente una proposta, ma procede a tappe forzate verso l'approvazione prevista per il mese di aprile. In breve si tratta del divieto di accesso entro la cerchia del Mille per tutti i non residenti, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, divieto che vale anche per tutti i motorini. Dalla parte di Colombo ci sono le associazioni ambientaliste e quei cittadini che anche secondo diversi sondaggi vogliono un centro pedonale. Proprio da un sondaggio di questo tipo parte anche il ragionamento dell'Ascom. Ai cittadini e ai commercianti certo piacerebbe molto avere più zone pedonali all'interno del centro storico, ma con la possibilità di arrivarci liberamente anche con il mezzo privato, senza dover percorrere 500 metri a piedi. I commercianti poi hanno il problema del carico e scarico. Le merci, prima ancora di essere vendute, devono arrivare in negozio e non possono farlo in autobus o in bicicletta. La proposta di Colombo di due sole fasce orarie non è ritenuta adeguata. Al piano dell'Ascom hanno lavorato quattro famosi architetti. Tra le proposte ci sarà quella dell'utilizzo esclusivo di autobus navetta all'interno del centro storico, dal quale invece sarebbero banditi gli ingombranti autoarticolati. E proprio per chi viaggia in autobus, domani sono previsti disagi. A causa di uno sciopero nazionale di quattro ore del trasporto pubblico, non sarà infatti garantito il servizio dei bus urbani ed extraurbani dalle ore 10 alle ore 14. Sempre domani si asterrà dal lavoro anche il personale viaggiante delle ferrovie dell'Emilia-Romagna. Dalle 14 del pomeriggio e fino alle 18 il servizio non sarà garantito e potrebbero essere soppressi alcuni treni oppure subire ritardi. Ad aumentare poi le difficoltà di chi ha bisogno di spostarsi, lo ricordiamo, c'è anche lo stop alle auto del giovedì deciso dal Comune di Bologna. Secondo l'assessore alla mobilità Andrea Colombo, il blocco rimane, visto che l'orario dello sciopero non coincide con le ore di punta degli spostamenti. E continuano le reazioni sulla riforma del redditometro ISEE varata dalla giunta Merola. Le coppie non sposate non potranno più avvalersi della doppia residenza per avvantaggiarsi nelle gradotorie rispetto alle coppie regolarmente sposate. L'Udc e il Pdl approvano il provvedimento. Vediamo allora il servizio di Giuseppe Piloni. Continua a fare discutere via libera della giunta Merola la riforma del redditometro ISEE che entrerà in vigore da settembre per i nidi, le mense scolastiche e tutti gli altri servizi educativi del Comune. In sostanza, le coppie non sposate ma anche i separati e i divorziati non potranno più avvalersi della doppia residenza per avvantaggiarsi in graduatorie e pagare tariffe più basse. Una misura che è un segno di equità, giustizia e di grande innovazione. Tante persone la chiedevano commenta Raffaella Santi Casali del Pdl, prima firmataria dell'ordine del giorno di maggioranza sulla riforma. Approva la modifica del redditometro ISEE anche la parlamentare del Pdl, Donatalenzi che chiede però che ci si muova anche sul fronte delle donne separate non aiutate dall'ex marito. La riforma sull'ISEE piace anche alle opposizioni. Mi auguro, dice Silvia Noè capogruppo di C in Regione che dopo che il capoluogo è intervenuto per sanare questa iniquità anche la Regione mania più presto una direttiva che assicuri un trattamento omogeneo su tutto il territorio regionale così come ho sollecitato con il mio progetto di legge. Sono molto felice il commento di Valentina Castaldini presidente della Commissione Affari Istituzionali di Palazzo del Cursio nonché esponente del Pdl. Molte città dell'Emilia Romagna stanno approvando ordini del giorno come i nostri. Mi chiedo a questo punto dice ancora la Castaldini dov'è la Regione ormai l'unica pedina mancante che dovrebbe fare una riforma complessiva dell'ISEE che tenga anche conto del patrimonio immobiliare. Ora in vista dell'iter del provvedimento vigileremo perché sia completato in tempo per le iscrizioni perché l'applicazione sia spiegata bene ai quartieri e perché ai CAF vengano date informazioni lineari conclude la Castaldini. La pubblicazione dei canoni di affitto che le associazioni pagano al Comune di Bologna ha fatto infuriare l'assessore comunale alla cultura Alberto Ronchi che si scaglia furente sulla consigliera regionale Silvia Noè la casiniana ieri aveva diffuso informazioni ottenute proprio tramite il suo assessorato. Si è fatta propaganda usando una risposta che era lecito non darle ha dichiarato Ronchi e che è costata tempo e lavoro agli uffici. La prossima volta tale risposta non arriverà e poco fa la replica di Silvia Noè Noè non entro nel merito delle esternazioni dell'assessore Ronchi perché il suo nervosismo si commenta da solo chi osa Noè è evidente che ho fatto una richiesta formale mandata in via ufficiale e perché avevo intenzione di fare un'analisi anche politica sulla gestione degli immobili. La trasparenza è uno dei doveri degli amministratori così come lo è la verifica della corretta amministrazione del patrimonio se la documentazione che mi ha fornito l'assessore è parziale o inesatta è un problema suo se invece ci sono aggiornamenti li comunichi queste le parole della consigliera Noè Cambiamo argomento è giallo su due testamenti falsi una vicenda che nasce da un esposto della Curia la Guardia di Finanza ha sequestrato beni per oltre 14 milioni di euro sentiamo i dettagli da Giuseppe Piloni due testamenti falsi che dovevano servire a mettere le mani su un patrimonio gigantesco del valore di oltre 14 milioni di euro appartenuto a un bolognese di 83 anni Luciano Casalini morto nel maggio del 2009 senza lasciare eredi un'indagine della Guardia di Finanza di Bologna però ha portato a scoprire che i testamenti in cui l'eredità veniva lasciata in parte alla Chiesa e in parte ad altre persone erano fasulli realizzati ad arte per accaparrarsi un patrimonio che altrimenti sarebbe andato allo Stato a fare partire le indagini coordinate dal PM Antonello Gustapane è stata la Curia che ha presentato un esposto perché insospettita da questi documenti al momento nell'inchiesta della Procura risulta indagato per truffo un bolognese di 72 anni ginecologo in pensione nel suo PC sono stati trovati dei file con la bozza di uno dei due falsi testamenti a rendere nota la vicenda è stata la Guardia di Finanza dopo il sequestro preventivo dell'intero patrimonio su ordine del GIP Pasquale Gianniti sono scattati i sigilli per 39 immobili tra Bologna e San Lazzaro il valore di circa 11,5 milioni di euro oltre che su una serie di conti correnti e depositi bancari e postali per altri 2,7 milioni sono state sequestrate anche due cassette di sicurezza il cui contenuto non è ancora noto sono tanti i particolari strani della vicenda che hanno insospettito l'arci di Ocisi quello più inverosimile è il modo in cui è stato fatto ritrovare il secondo testamento mentre il primo era a casa del defunto alcuni mesi dopo la morte il secondo è spuntato in una cassetta per le offerte di una chiesa di Bologna previa telefonata anonima adesso una notizia di cronaca nella tarda serata di ieri sera un uomo di 54 anni residente a Budrio ha perso la vita a causa di un incidente stradale il fatto è avvenuto lungo la trasversale di Pianura a quanto si è appreso giunto alla rotatoria di Villa Fontana la vettura è uscita di strada finendo in un fosso sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118 che hanno tentato inutilmente di rianimare il conducente sulla vicenda e sui motivi dell'incidente sono in corso gli accertamenti del caso ma sembra che all'origine della disgrazia ci sia un malore dell'uomo noi ci fermiamo adesso c'è la pubblicità torniamo tra poco nuovi studio con ETG prima di proseguire come sempre rivediamo il sommario del nostro telegiornale dopo la richiesta fatta all'unanimità dal consiglio regionale alla giunta di Vialdomoro per uno stop ai cantieri della variante di Valico i cittadini di Ripoli tirano un sospiro di sollievo anche oggi la nostra telecamera è salita sul paesino minacciato da una frana la giunta di Bologna ha deciso di aumentare del 4% la Tarsu la tassa sui rifiuti l'obiettivo è quello di migliorare la raccolta differenziata ha spiegato la vice sindaco Silvia Giannini ma inevitabili scoppiano le polemiche mancano poche ore alla pubblicazione del contropiano dell'associazione commercianti per la pedonalizzazione del centro un progetto più soft che si oppone alla pedonalizzazione più radicale proposta dal comune e dall'assessore Colombo è giallo su due testamenti falsi una vicenda che nasce da un esposto della Curia la guardia di finanza ha sequestrato beni per oltre 14 milioni di euro indagato un ginecologo in pensione bus fermi domani a Bologna dalle 10 alle 14 gli autisti di Tper l'ex ATC croceranno le braccia in adesione allo sciopero nazionale del settore nel pomeriggio dalle 14 alle 18 sarà la volta del trasporto ferroviario regionale e nonostante il lungo periodo di maltempo soprattutto nel mese di febbraio non è migliorata la qualità dell'aria in città la centralina di rilevamento di Porta San Felice ha fatto rilevare il 35esimo superamento dei valori limite dall'inizio dell'anno va un po' meglio invece in altre zone della città facciamo il quadro con Gabriele Sciarra Con i 76 microgrammi per metro cubo registrati ieri dalla centralina di Porta San Felice l'area di Bologna ha raggiunto la 35esima giornata in cui i limiti delle PM10 le cosiddette polveri sottili hanno superato il limite consentito di 50 microgrammi per metro cubo di fatto i due mesi dall'inizio dell'anno e nonostante la parentesi dell'ondata di maltempo Bologna si è già mangiata tutto il bonus consentito ovvero i 35 giorni per i quali in un anno è ammesso uno sforamento dei valori soglia il dato dice anche che da inizio 2012 in città praticamente un giorno su due le PM10 erano oltre il limite le altre centraline di rilevamento smog attive a Bologna invece contano un minor numero di sforamenti quella dei giardini Margherita ne segnala finora 24 quella in via Chiarini un po' di più 25 quella Villa Torchi arriva invece a 27 e uno dei motivi principali della cattiva qualità dell'aria a Bologna come in altre città è l'emissione in atmosfera degli scarichi degli impianti di riscaldamento per questo motivo la provincia ha deciso di intensificare i controlli sulle caldaie affidandoli a privati attraverso un bando di concorso previste sanzioni per gli inadempienti ancora Sciarra sarà un bando a decidere chi si occuperà di fare i controlli delle caldaie per conto della provincia di Bologna il servizio prima affidato all'azienda USL sarà ora assegnato tramite concorso pubblico la decisione è stata presa dai responsabili del servizio tutela ambientali e sanzioni dell'amministrazione di Palazzo Malvezzi specificando che la scelta è dettata dalla necessità di effettuare maggiori controlli ogni proprietario di caldaie è tenuto a far controllare la propria e a far applicare dal manutentore il bollino calore pulito sul rapporto di controllo costa 6 euro per gli impianti con potenza inferiore ai 35 kilowatt e 15 per una potenza superiore una copia rimane al cittadino l'altra deve essere consegnata allo sportello metropolitano impianti termici i controlli a campione previsti dalla provincia accerteranno poi che la caldaia sia a norma e sui trasgressori ricadrà sia il costo della verifica che una multa salata che va da 500 a 3.000 euro nel 2010 la provincia ha riscosso dalla vendita dei bollini 344.046 euro mentre ha ricevuto 421 segnalazioni di impianti pericolosi il trend però è in calo perché nell'anno successivo cioè nel 2011 ci sono state soltanto 180 segnalazioni ci fermiamo ancora qualche minuto di pubblicità tra poco nuovi studio con TG in Italia nessuna scuola paritaria fa realmente utile almeno per quanto riguarda il mondo cattolico lo ha detto padre Francesco Cicimarra presidente dell'associazione nazionale dei gestori delle scuole cattoliche a proposito dell'esenzione IMU per le paritarie padre Cicimarra ha parlato a margine di un convegno a Bologna sui fondi per la formazione sentiamolo sembra che il ministro Passera voglia comunque applicare l'IMU solo a quegli istituti che non rispettano determinati precetti determinati parametri ecco qual è la situazione in Italia secondo lei come ho avuto modo di dire nel recente passato l'intenzione del governo trova nelle scuole paritarie il campo ideale di applicazione nel senso della esenzione perché le scuole paritarie per legge devono iscrivere tutti coloro che ne fanno richiesta i vi compresi i portatori di handicap i disabili non hanno come obiettivo quello di fare lucro perché sia no date le risorse utilizzate e soprattutto le rette minime pagate dagli utenti nella stragrande maggioranza dei casi credo che in Italia nessuna scuola paritaria fa realmente utili almeno per quanto riguarda il mondo cattolico e prima di chiudere rivediamo come sempre i titoli del nostro telegiornale dopo la richiesta fatta all'unanimità dal Consiglio regionale alla giunta di Vialdomoro per uno stop ai cantieri della variante di Valico i cittadini di Ripoli tirano un sospiro di sollievo anche oggi la nostra telecamera è salita sul paesino minacciato da una frana la giunta di Bologna ha deciso di aumentare del 4% la TAR sulla tassa sui rifiuti l'obiettivo è quello di migliorare la raccolta differenziata ha spiegato la vice sindaco Silvia Giannini ma inevitabili scoppiano le polemiche mancano poche ore alla pubblicazione del contropiano dell'associazione commercianti per la pedonalizzazione del centro un progetto più soft che si oppone alla pedonalizzazione più radicale proposta dal comune e dall'assessore Colombo è giallo su due testamenti falsi una vicenda che nasce da un esposto della Curia la guardia di finanza ha sequestrato beni per oltre 14 milioni di euro indagato un ginecologo in pensione autobus fermi domani a Bologna dalle 10 alle 14 gli autisti di TPER l'ex ATC incroceranno le braccia in adesione allo sciopero nazionale del settore nel pomeriggio dalle 14 alle 18 sarà la volta del trasporto ferroviario regionale con questo è davvero tutto il nostro telegiornale si chiude qui grazie per averci seguito vi auguro una buona serata grazie a tutti